un attimo regà non droppate niente non droppate niente no devo uscire e dobbiamo rientrare che mi faccio allora sto cosa secondo te meglio lo spaccazzolla al 142 o il deciblaster al 142 il 26 va bene mi faccio spaccazzolla va bene no mi sa che mi sei buggato non mi fa fare più niente oh no ce l'hanno droppata no me li prendiamo qui state vedendo che me li faccio qui qui perché non mi grazie altre fa niente quanti me li prendi i tuoi e mo che fa il bug che faccio mi fa spacco il caccio che bug no no questo qua va nel funny moment che bug sto cattando raga come faccio non mi fa non mi fa fare niente però e niente ho finito di graftare però controlliamo se ho perso le armi un attimo manca l'ultima ah non mi fa fare manco x devo per forza spegnere potevo spegnere prima niente boh il fatto di rando non ha senso raga secondo me dove state? ecco da penia vai si segue non mi innazcondi lì va a giusto dietro mi ha salvato la mica ma tu? se non c'ero io allora da angelo mi devi ringraziare prego se non c'ero io beh è rimorto perché quello tipo stava quello con la massa dietro di te ti stava per dare la massata a mamma lo saprò dove stanno quelli agnelli di che gioco ma teo non mi ammazzare per favore vuoi stare nascolti? no io sto dentro a questo zon ma teo per favore non mi ammazzare io sai allora non lo sapevo che ero stato nooo io lo sto intuendo ma io non ho altri nasconditi ma io non ho altri nasconditi dai no eh si non mi ammazzare Matteo angelo dai angelo dai 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 io ho capito questo angelo però secondo te dove starà mai angelo? porco mi hai spawnato un tizio in faccia proprio in questa modalità non ci sono nascondigli te ne puoi solamente scappare no mi hai trovato uno angelo se mi segui ah ho capito ho capito vai vai ho capito vai ho capito vai mi dovete soltare? mi stai seguendo angelo? mi segui ti sto vedendo mi segui ciao faccia uno zoom? no ciao dammo che sto qua mi segui guarda sali qua puoi salire qua altrimenti tu vedi ah no aspetta aspetta devo ricaricare ma ma no 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 raga non mi troveranno mai e ti credo l'ho detto io no ma tu non sai dove sono ah ok buono buono non credo fin quanto salgano qua sopra fin quanto salgano qua sopra finquanto salgano qua sopra no 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 oh 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 it's at the oh 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 la re oh come si lo so non sembra ma beh sei solo no però l'arato l'arato io eh non ho armi muoio a terra a terra puoi c'è un'altra volta coglione ma quanto forte questa andrelletta qua no cazzo ah però posso vedere queste carte cazzo cazzo oh bravissimo che mi 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 e mi mi metà altico, blu oh, c'è nolto no, c'è nolto volete morire presto? mi fa il prontoro? non ho messo musica a tutto volume mi è fanato nel box questo raga, ma ci ho preso? oh, come? ma come ci ho preso? come ci ho preso? come ci ho preso? oh, cambiamo mappa però eh sì, va l'ultimo round e cambiamo mappa, vai cambiamo mappa l'ultimo round e cambiamo mappa metto un'altra mappa in me ma dai, mi sottratto uno che costruisci in ferro allora, un personaggio che costruisci in ferro è stato in questo momento che lo sapeva che lo sapeva ah, quindi lo stesso? regola numero uno è di forza e io come domi schicchi mappa, no, non eri ce l'ho non eri ce l'ho nebro ma che è che mi fa ma? dan 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 perchè sti bambini qui siano tutti? oh, mio! chi è che ha rotto il fungio? c'era casa mia chi è che ha rotto il ca... io io basta questo meme angelo dopo vuoi fare qualche cosa? avete già fatto la pizzeria reale? ma ero un sceme oh ma sto ferro amico di merda oh 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 ma calma calma ma ti scappa eh ma calma 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 guarda d'angelo numero uno camper i nike a breve cadrà fate cadere angelo con le nike bravo che sta facendo cadere nooo nooo no angelo ci puoi morire da questo mamma mia no no gatto no 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 Grazie a tutti.